Buon venerdì e bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono Elisa True Crime come ogni lunedì e ogni venerdì anche oggi sono qui con voi a raccontarvi una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata come sapete da questa settimana farò video di True Crime sia il lunedì che il venerdì quindi eccomi qua la storia di oggi me l'avete chiesta in tantissimi lo so che è una cosa che dico spesso ma questo è ufficialmente il caso più richiesto ogni giorno da quando ho aperto il canale ricevo commenti con su scritto la stessa cosa per favore puoi fare un video su Giunco Furuta e in realtà per tanto tempo non ho voluto farlo perché in realtà ci sono tantissimi video su questo caso ce ne sono davvero tanti qualsiasi canale di True Crime ha trattato questo caso quindi ho pensato che sinceramente non sapevo che cosa avrei potuto aggiungere a tutti questi video che sono già molto validi quindi ho detto vabbè non voglio farlo anche io però è davvero un caso che mi chiedete così tanto che a un certo punto ho detto va bene ok lo faccio lo faccio va bene lo faccio quindi eccomi qua voi chiedete io vi do lo sapete che vi ascolto e ormai sto facendo solo più casi che mi consigliate voi questo è un caso davvero difficile davvero intenso per chi non dovesse conoscere questa storia davvero vi avviso è forse il caso più cruento più violento non lo so il delitto più orribile di cui io abbia mai sentito parlare penso il delitto più orribile che esista sapete che solitamente cerco di evitarvi i dettagli o magari provo a dirvi ok se volete saltare questa parte vi metto qua il minuto così potete saltare a quella parte del video in questo caso non posso farlo perché in questo caso devo per forza andare nei dettagli di queste violenze terrificanti che fanno parte di questo caso quindi se siete sensibili a questo genere di cose vi consiglio vivamente di saltare questo video scusate devo dirlo devo fare questo disclaimer perché non tutti conoscono questo caso e davvero se non lo conoscete e sapete di essere un po' sensibili magari alla descrizione di alcune cose saltate questo video tornate al prossimo non ho dubbi che tornerete non mi offendo quindi vi ho avvisati oggi parleremo di una ragazza di 16 anni di nome giunko furuta giunko è nata a misato a saitama in giappone il 18 gennaio del 1971 e viveva insieme ai suoi genitori e insieme al suo fratello maggiore e al suo fratello minore frequentava il liceo yashio minami ed era una studentessa modello era proprio una brava ragazza in generale era la figlia che qualsiasi genitore vorrebbe perché oltre ad andare benissimo a scuola aveva anche zero interesse per qualsiasi altra distrazione non le interessava assolutamente il partecipare alle feste il fare uso di alcol droghe quelle cose che in questa età sono abbastanza normali e infatti praticamente tutti i suoi compagni di scuola facevano queste cose ma giunko non ha mai voluto prenderne parte e non è mai stata spaventata dal dire di no dal sentirsi diversa a costo di sembrare una sfigata tra mille virgolette agli occhi dei suoi compagni nel non fare queste cose perché giunko era concentrata su altro giunko era concentrata su se stessa e sul suo futuro infatti oltre alla scuola aveva anche un lavoretto part time che la aiutava a mettere da parte dei soldi per poi andare all'università e pensate che aveva anche già trovato un altro lavoro che avrebbe poi fatto quando sarebbe andata all'università questo per farvi capire che giunko era una ragazza molto responsabile molto matura e tutte queste cose in realtà invece di farla sembrare una sfigata sempre tra mille virgolette agli occhi dei suoi compagni facevano l'effetto contrario perché giunko piaceva a un sacco di persone e attirava molto l'attenzione su di sé non solo per la sua forte personalità ma anche per il fatto che fosse una bellissima ragazza quindi attira l'attenzione anche insomma nello specifico di molti ragazzi della sua scuola e in particolare attira l'attenzione di un ragazzo che si chiama Hiroshi Miyano e Hiroshi non era un ragazzo qualsiasi era il bullo della scuola sapete che in tutte le scuole purtroppo ce n'è uno e Hiroshi era proprio il classico bullo e una cosa in particolare che faceva per intimidire le sue vittime diciamo era il raccontare continuamente che lui aveva connessioni con la yakuza che sarebbe la mafia giapponese se ne faceva un vanto e la gente aveva paura di lui Hiroshi si sentiva un po' di io sceso in terra pensava di poter fare quello che voleva pensava che tutto gli fosse lecito era abituato a ottenere sempre quello che voleva nessuno mai gli aveva detto di no perché come vi ho già detto avevano tutti paura di lui e ad un certo punto Hiroshi decide che vuole trovarsi una ragazza ma non proprio una fidanzata perché lo ribadisce più volte non vuole una relazione seria e aveva deciso che quella ragazza sarebbe stata proprio la nostra Junko Furuta perché Hiroshi si era preso una cotta per lei ma come abbiamo già visto a Junko non interessava nessuna distrazione e questo comprendeva i ragazzi figuriamoci poi un ragazzo come Hiroshi di conseguenza quando Hiroshi ha mostrato il suo interesse verso Junko lei non ha avuto nessun problema nel dirgli di no che non era interessata e chiaramente Hiroshi non prende molto bene questo rifiuto perché appunto non era abituato a sentirsi dire di no la gente non aveva il coraggio di dirgli di no ma in qualche modo ha dovuto accettarlo la sera del 25 novembre del 1988 Junko aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si stava dirigendo verso casa sua sulla sua bicicletta quando all'improvviso durante il tragitto un ragazzo sbuca fuori dal nulla e spinge Junko giù dalla sua bicicletta la spinge a terra e poi scappa via a questo punto Junko è per terra spaventata non capisce neanche che cosa sia successo e proprio in quel momento passava di lì proprio Hiroshi Miyano che vede la scena e corre ad aiutare Junko e si offre di accompagnarla per il resto del tragitto fino a casa sua al che lei accetta anzi è sollevata di vedere una faccia che riconosce così si incamminano insieme iniziano a chiacchierare del più e del meno Junko inizia a calmarsi dopo quello che è successo ma man mano che camminano Hiroshi inizia diciamo a guidare Junko verso un'altra direzione fino ad arrivare nei pressi di un magazzino abbandonato e una volta arrivati lì il suo atteggiamento verso Junko cambia completamente inizia ad alzare la voce a spingerla dicendole che da lì in avanti avrebbe fatto tutto quello che lui le avrebbe detto e le ricorda sempre le sue connessioni con la Yakuza quindi la minaccia dicendole che se si fosse rifiutata di fare quello che lui diceva avrebbero ucciso non solo lei ma anche tutta la sua famiglia e a quel punto purtroppo la violenta successivamente la porta in un hotel poco lontano da lì e la violenta altre tre volte e da questo hotel Hiroshi decide di chiamare i suoi amici per vantarsi di quello che aveva appena fatto i suoi amici erano Jo Ogura, Yasushi Watanabe e Shinji Minato che a loro volta dicono ai Roshi di non lasciare andare Junko gli dicono di tenerla lì in modo che loro possano raggiungerli e approfittare anche loro di lei così quella notte intorno alle tre Hiroshi prende Junko e la porta in un parco lì vicino all'hotel in cui ad aspettarli c'erano anche gli altri tre amici di Hiroshi e una volta arrivati lì Junko vede questi tre amici e ne riconosce uno riconosce Shinji Minato e lo riconosce perché quello era proprio il ragazzo che l'aveva spinta giù dalla bicicletta quella sera proprio prima che Hiroshi apparisse magicamente per salvarla capisce quindi che quella era stata tutta una messa in scena era tutto organizzato, erano tutti d'accordo quel ragazzo l'aveva spinta giù dalla bici, l'aveva spaventata in modo che Hiroshi potesse apparire come l'eroe potesse guadagnarsi la sua fiducia così che lei avrebbe abbassato la guardia e loro avrebbero potuto rapirla come avevano fatto quello che Junko non sapeva è che purtroppo lei non era neanche la prima vittima di questi mostri perché di questo si tratta e capirete perché questi ragazzi avevano già fatto la stessa identica cosa altre volte non molto tempo prima infatti avevano preso un'altra ragazza sempre con la stessa tecnica sempre mentre lei tornava a casa da lavoro una sera l'avevano aggredita e l'avevano stuprata in gruppo ripetutamente per poi però lasciarla andare qualche ora dopo ma questa ragazza non aveva mai parlato a nessuno di questa cosa perché soprattutto a quei tempi la violenza sulle donne era una cosa di cui non si parlava soprattutto in Giappone perché nella cultura giapponese e non solo per carità ma in questo caso stiamo parlando della cultura giapponese la violenza sulle donne è sempre stata vista come il risultato di un comportamento manchevole da parte della donna e quindi in qualche modo giustificato per esempio nella violenza domestica in Giappone è sempre stata vista in questo modo se il marito o il figlio insomma se l'uomo della casa ha un comportamento violento nei confronti della madre, della moglie questo è spesso visto come motivo di vergogna per la donna perché significa che lei è stata manchevole nel suo ruolo di madre o di moglie e di conseguenza ha causato una reazione violenta nell'uomo della casa quindi comunque è colpa della donna pensate che la legge contro la violenza domestica in Giappone è passata solo nel 2001 e questa legge prevedeva delle misure di sicurezza, di protezione verso le vittime e avevano anche aperto diversi centri di assistenza ma nonostante questo le donne erano e sono ancora oggi riluttanti nel chiedere aiuto proprio per paura di essere incolpate o che qualcuno vada a riferire la cosa all'abusante e ai tempi era venuto fuori addirittura che in queste strutture il personale non era neanche addestrato a gestire situazioni del genere e la maggior parte delle volte erano loro stessi che incolpavano le vittime che andavano lì per cercare aiuto e stessa cosa vale per le aggressioni in strada per esempio molto comuni sono le aggressioni sui treni esistono infatti in Giappone delle carrozze dei treni esclusivamente per le donne non esiste però una multa o una limitazione nel caso in cui un uomo voglia salire su queste carrozze quindi un po' inutile voglio anche però specificare che il Giappone è un posto estremamente sicuro estremamente sicuro io ci sono stata, mio marito ci ha vissuto soprattutto per una turista assolutamente sicuro quindi non voglio spaventarvi però come in molte culture il ruolo della donna è ancora visto in modo sbagliato comunque scusate la parentesi ma volevo un po' spiegarvi il motivo per cui molte ragazze questa ragazza in particolare non ha mai parlato a nessuno di questa violenza che ha subito da parte di questo gruppo di mostri oltre al fatto che questo Hiroshi era collegato alla mafia giapponese quindi oltre alla vergogna c'era anche la paura quindi questi quattro ragazzi sono in questo parco insieme a Junko e iniziano a frugare tra le sue cose nel suo zaino e tra le cose trovano il suo indirizzo di casa quindi adesso potevano ricattarla ancora di più dicendole che se non avesse fatto quello che le ordinavano di fare ora avevano anche l'indirizzo di casa dei suoi e non avrebbero avuto problemi ad andarci a raccontargli tutto oppure avrebbero proprio potuto mandargli la yakuza e farli uccidere quindi da questo parco portano Junko a casa di Shinji Minato che abitava insieme ai suoi genitori e all'inizio costringevano Junko a dire di essere la fidanzata di uno dei ragazzi nel caso in cui i genitori avessero chiesto ma in realtà nessuno l'ha mai fatto nessuno ha mai chiesto niente infatti sembrava proprio che ai genitori di Minato non fregasse nulla non si sono mai chiesti chi fosse questa ragazza come mai era apparsa a casa loro senza mai uscire non si sono chiesti dove fosse la sua famiglia non hanno pensato di avvisare qualcuno perché Junko non passerà a casa di Minato uno o due giorni ma ben 44 senza mai uscirne il giorno dopo i genitori di Junko erano ovviamente molto preoccupati Junko era appunto una ragazza molto responsabile non era da lei non tornare a casa senza avvertire la sua famiglia quindi decide di rivolgersi alla polizia ma i ragazzi che hanno rapito Junko non hanno intenzione né di farsi arrestare né tantomeno di rinunciare al loro nuovo giocattolo non hanno intenzione di lasciare andare Junko quindi decidono di costringere Junko a telefonare ai suoi genitori e la costringono a dirgli che andava tutto bene che si trovava con un'amica era andata via di casa di sua spontanea volontà e che non voleva essere cercata e la costringono a dire alla sua famiglia anche di fermare la polizia di dire alla polizia di smettere di cercarla perché lei non voleva essere trovata e da quel momento per i successivi 44 giorni Junko ha ricevuto le peggiori torture che voi possiate mai immaginare quando i genitori di Minato erano presenti lei doveva sempre far finta di essere la fidanzata di uno di loro ma presto hanno anche smesso di fare questa cosa perché hanno capito appunto che ai genitori tanto non importava o comunque non avrebbero sicuramente chiamato la polizia né nessun altro qualsiasi cosa stesse facendo loro figlio con i suoi amici con questa ragazza loro volevano starne fuori non ne volevano sapere niente e quando sono successivamente stati intervistati quando gli è stato chiesto perché non sono intervenuti loro hanno risposto che avevano paura di Roshi e delle sue conoscenze nella Yakuza e avevano anche paura del loro stesso figlio Minato perché era spesso molto violento con loro, molto cattivo quindi per questo avevano deciso di starne fuori dicono anche che non si sarebbero mai immaginati quello che stavano realmente facendo questi ragazzi l'orrore a cui sarebbero arrivati perché questi ragazzi hanno iniziato a picchiare giunco ogni giorno, più volte al giorno a mani nude o con delle spranghe di ferro la stupravano regolarmente tutti i giorni, tutto il giorno e pare che alla fine di quei 44 giorni giunco sia stata stuprata dalle 400 alle 500 volte e si dice che circa un centinaio di uomini abbiano abusato di lei questo perché questi quattro ragazzi avevano iniziato a coinvolgere anche tutta una serie di loro amici compresi dei membri della Yakuza giunco veniva anche appesa dalle caviglie al soffitto la testa in giù è usata come sacco da box la costringevano a stare completamente nuda tutto il tempo per farla sentire a disagio la costringevano a ballare, a masturbarsi davanti a loro e la violentavano anche usando diversi oggetti come bastoni, bottiglie di vetro, addirittura delle forbici e dopo aver fatto queste cose spesso gli uomini le urinavano addosso le veniva dato da mangiare o da bere raramente e quando lo facevano la costringevano a mangiare scarafaggi vivi e a bere la sua stessa urina le sono stati infilati anche dei fuochi d'artificio nei genitali e anche nelle orecchie che sono anche stati accesi causandole delle ustioni molto molto gravi la bruciavano spesso usando delle sigarette, dei fiammiferi le facevano cadere la cera delle candele sul corpo o addirittura sulle palpebre a volte qualcuno le teneva la testa ferma sul pavimento mentre qualcun altro le saltava sulla testa ripetutamente hanno anche fatto cose come strapparle un capezzolo con una pinza le hanno bruciato i genitali, il clitoride le buttavano addosso dei pesantissimi bilancieri sullo stomaco e la lasciavano in quello stato finché non perdeva il controllo della vescica, dell'intestino era anche costretta a fare cose come fumare molte sigarette tutte in una volta o inalare il solvente, quello che serve per diluire la vernice le buttavano addosso del liquido infiammabile, le davano fuoco alle gambe e questo dura per settimane e settimane e a un certo punto sono passate circa due settimane il corpo di Giunco è completamente danneggiato è in condizioni gravissime e i suoi organi interni sono talmente danneggiati che Giunco non riesce più né a mangiare né a bere senza vomitare l'unica cosa che riusciva a mandare giù che la tenuta in vita era il latte non aveva neanche più il controllo della vescica dell'intestino quindi finiva spesso per sporcare per terra e questi incidenti causavano nei mostri che la tenevano prigioniera ancora più rabbia quindi ogni volta che Giunco sporcava per terra perché si sentiva male questi mostri la torturavano ancora di più ora come vi ho accennato diversi uomini sono stati coinvolti in questa cosa circa un centinaio e nessuno di loro si è mai tirato indietro nessuno di loro ha mai detto no uno di questi uomini si chiamava Koichi Ihara e dopo un po' di giorni questo Koichi inizia diciamo a sentire un leggero senso di colpa e decide quindi a un certo punto di parlare a suo fratello a cui confessa tutto quello che aveva fatto a Giunco e che anche gli altri ragazzi le avevano fatto e il fratello di Koichi decide subito di chiamare la polizia due poliziotti quindi decidono di recarsi a casa di Minato e quando arrivano lì ad aprirgli la porta sono proprio i genitori e quando la polizia gli chiede se per caso ci fosse una ragazza tenuta prigioniera in casa loro che stavano torturando ripetutamente i genitori rispondono di no che in casa loro non c'era nessuna ragazza e aggiungono che se gli agenti vogliono possono accomodarsi dentro casa e controllare loro stessi al che questi poliziotti decidono no grazie che non c'è bisogno di farli accomodare dentro casa non c'è bisogno che loro guardino con i loro occhi perché se questi due genitori gli stanno dicendo che non c'è nessuna ragazza tenuta prigioniera in casa loro e anzi li stanno anche invitando ad entrare per controllare questo doveva significare che stavano dicendo la verità perché dubitare e quindi va proprio così questi due poliziotti avrebbero potuto salvare giunco avrebbero potuto portarla via avrebbero potuto trovarla e a questo punto erano passate solo solo tra virgolette due settimane le avrebbero risparmiato molte altre settimane di tortura ma invece hanno deciso di non farlo quindi hanno declinato l'invito ad entrare dei genitori di minato e sono andati via per questa negligenza però successivamente questi due agenti di polizia sono stati licenziati che vabbè per me è il minimo però è già qualcosa le torture a giunco continuano e a questo punto erano passate tre settimane e un giorno mentre questi mostri stavano dormendo dopo aver bevuto grandi quantità di alcol quindi dormono, sono un po' assonnati, sono distratti giunco ne approfitta e cerca di scappare arriva a un telefono e chiama la polizia ma prima che riuscisse a dire qualcosa uno di questi mostri la vede ovviamente giunco viene subito punita per quello che aveva fatto le cospargono i piedi di liquido infiammabile e gli danno fuoco le inseriscono anche una bottiglia di vetro nel lano che successivamente si rompe causandole dei danni interni gravissimi a 20 giorni dal suo rapimento giunco non riusciva più a camminare non riusciva neanche più a stare in piedi a causa di tutte le ustioni che aveva sul corpo non riusciva più neanche a usare le mani perché purtroppo i mostri gliele avevano fratturate schiacciandole con questi pesanti bilanceri che avevano a 30 giorni dal rapimento giunco purtroppo non riusciva più neanche ad andare in bagno sia a causa delle mutilazioni a causa delle bruciature ai suoi genitali e ai danni ai suoi reni e a tutti gli organi interni aveva anche praticamente perso l'udito per i danni causati dai fuochi d'artificio e a questo punto giunco non sperava neanche più di liberarsi non sperava più che la lasciassero andare a questo punto pregava che questi mostri la uccidessero pregava che quell'orrore avesse finalmente fine che non dovesse soffrire più il che è estremamente triste pensare che a quel punto la sua speranza più grande non era più quella di essere libera non era più quella di rivedere la sua famiglia ma era quello di morire ma quando giunco implorava questi mostri di ucciderla, di farla finita loro ridevano di lei, infierivano su di lei giunco aveva anche iniziato ad avere delle convulsioni in seguito agli estremi danni che il suo corpo aveva subito e quando aveva queste crisi epilettiche i mostri erano convinti che lei stesse fingendo questo vi fa capire anche quanto fossero disconnessi dalla realtà di quanto non avessero neanche il concetto di causa-effetto come se non realizzassero che giunco era una persona e se torturi una persona per un mese ad un certo punto il suo corpo inizia a cedere loro non riuscivano a fare questo ragionamento di conseguenza erano convinti che ogni volta che aveva una crisi epilettica stesse fingendo e finivano per punirla anche per questo dandole fuoco iniziano anche a costringerla a dormire sul balcone e a questo punto siamo a dicembre in Giappone fa freddo e questo perché a causa delle numerosissime ferite di giunco che ormai erano completamente infette e al fatto che non riuscisse più ad alzarsi per andare in bagno chiaramente giunco emanava un cattivo odore e questo ai mostri dava fastidio inoltre a questo punto il corpo di giunco il suo viso era tutto talmente danneggiato che era totalmente irriconoscibile era completamente sfigurata e tutto questo fa finalmente perdere l'interesse soprattutto quello sessuale dei mostri nei confronti di giunco perché ai loro occhi non era più attraente e quindi non avevano più voglia di abusare di lei e quello era l'unico motivo per cui la tenevano ancora lì di conseguenza decidono di uscire e di cercare un'altra vittima e purtroppo la trovano una ragazza di 19 anni che proprio come giunco stava tornando a casa da lavoro una sera viene all'improvviso fermata da questo gruppo di mostri e viene stuprata a ripetizione da tutti loro fortunatamente a differenza di quello che avevano fatto con giunco la lasciano andare subito dopo i mostri a questo punto tornano a casa da giunco e continuano con le torture questo fino ad un giorno a gennaio in cui all'improvviso uno di questi mostri decide di sfidare giunco a una partita di mahjong mahjong è un gioco di carte diciamo solo che invece delle carte usano delle pedine che sono simili a quelle del domino comunque il gioco è simile al nostro solitario giunco è quindi costretta a giocare a questo gioco e usa le sue ultime forze per farlo e inaspettatamente vince la partita ma questa cosa fa infuriare completamente i mostri che ricominciano con le torture ricominciano a picchiarla, le versano di nuovo della cera calda sulle palpebre e la picchiano finché giunco non ha l'ennesima crisi epilettica ma questo comunque non ferma questi ragazzi mostri che continuano a picchiarla, continuano a inferire su di lei nonostante quel momento stesse avendo questa crisi a questo punto tutte le sue ferite anche quelle vecchie si sono riaperte e appunto tutte le sue ferite sono infette quindi i mostri per evitare di sporcarsi decidono di prendere dei sacchetti di plastica e di legarseli intorno alle mani e legarseli con del nastro adesivo piuttosto che smettere di picchiarla decidono di fare questa cosa per evitare di sporcarsi e poter continuare a picchiarla e oltre a picchiarla la cospargono di nuovo di liquido infiammabile e le danno di nuovo fuoco tutto questo nonostante lei fosse in preda a violenti attacchi epilettici e questo attacco dura più di due ore due intere ore dopo un po' la smettono di picchiarla il fuoco si spegne da solo ma a quel punto Giunco Furuta era deceduta Giunco Furuta muore il 5 gennaio del 1989 ma questi mostri come già accennato prima sembrava davvero non si rendessero conto di concetti semplici come la vita, la morte e di conseguenza quando vedono che Giunco non risponde più non si sveglia più di nuovo pensano che stia fingendo non capiscono perché non si svegli più sono abituati al fatto che perda spesso i sensi di solito la picchiavano, perdeva i sensi poi dopo un po' si risvegliava invece questa volta non si stava svegliando più e ci mettono tanto tempo a capire che effettivamente è morta pensate che ci mettono più di 24 ore a capire che Giunco era morta e a quel punto Hiroshi decide di chiamare suo fratello per dirglielo e capire cosa fare perché adesso avevano un corpo e dovevano sbarazzarsene in qualche modo decidono quindi di avvolgere il corpo di Giunco in delle coperte e dopo la immergono in un barile pieno di 200 litri di cemento liquido che lasciano poi asciugare e solidificare intorno al corpo di Giunco e se ne liberano in un posto che si chiama Koto vicino Tokyo e dato che la sua famiglia era convinta che Giunco fosse scappata di casa che stesse bene come aveva detto lei stessa nessuno la stava cercando quindi in realtà questi mostri avrebbero potuto anche farla franca se non fosse che quella ragazza di 19 anni che avevano attaccato e violentato quando avevano perso interesse verso Giunco fortunatamente li aveva denunciati quindi a tre settimane dopo la morte di Giunco il 23 gennaio del 1989 i Roshi insieme al suo amico Joe che era sempre uno dei mostri dei quattro ragazzi che avevano rapito Giunco vengono arrestati proprio per l'aggressione di questa ragazza ma allo stesso tempo in quel periodo sempre in quella zona c'era stato un duplice omicidio su cui la polizia stava indagando e la polizia inizia a pensare che forse i Roshi e Joe sono responsabili anche per questo duplice omicidio perché effettivamente c'erano delle analogie tra questo duplice omicidio e l'aggressione di questa ragazza quindi quando interrogano i Roshi e Joe separatamente iniziano a insinuare che forse oltre ad aver aggredito questa ragazza di 19 anni forse avevano anche ucciso qualcun altro riferendosi a questo duplice omicidio su cui stavano indagando ma i due ragazzi avevano la coscienza sporca perché sapevano di aver ucciso Giunco e pensavano che la polizia si stesse riferendo a Giunco e quindi ad un certo punto i Roshi cede e confessa tutto confessa tutto quello che avevano fatto a Giunco confessa di averla uccisa e la polizia rimane a bocca aperta perché in realtà in quel momento non sapevano neanche che Giunco fosse morta non stavano neanche parlando di lei aggiungo anche che né i Roshi né Joe né nessuno di questi mostri c'entravano nulla con questo duplice omicidio su cui la polizia stava indagando quello è un caso che in realtà da quello che ho capito ancora oggi è rimasto irrisolto comunque non c'entrava niente con loro i Roshi spiega alla polizia dove possono trovare il corpo di Giunco e quando lo trovano era talmente danneggiato che è stato davvero complicato riuscire a identificarla successivamente tutti e quattro i mostri sono stati arrestati ma erano tutti minorenni perché avevano tutti dai 16 ai 17 anni tranne i Roshi che ne aveva 18 quindi all'inizio le identità di tutti e quattro i ragazzi vengono nascoste al pubblico in quanto minorenni ma nonostante questo alcuni giornalisti hanno scoperto i loro nomi e quando l'hanno fatto li hanno subito rilasciati su tutti i giornali perché ritenevano che chiunque fosse capace di un crimine simile non meritasse il privilegio dell'anonimato e io sono assolutamente d'accordo tutti e quattro i mostri hanno accettato un patteggiamento per cui invece di dichiararsi colpevoli di omicidio si sono dichiarati colpevoli di aver inflitto delle ferite che successivamente sono risultate nella morte di giunco e purtroppo per la legge c'è una grande differenza tra questa cosa e omicidio colposo perché loro era come se stessero dicendo noi non l'abbiamo uccisa, non volevamo ucciderla sì, l'abbiamo ferita poi quello che è successo dopo se per dire ha sanguinato così tanto da morire non è colpa nostra un po' come dire sono le ferite che l'hanno uccisa non noi noi siamo colpevoli solo di averla ferita non di averla uccisa lo so che è ridicolo però è così nel luglio del 1990 Hiroshi, che era un po' il capetto di questo gruppo di mostri era anche l'unico che aveva 18 anni ha avuto la condanna più lunga di tutti è stato condannato a 17 anni di prigione e pensate che addirittura ha avuto il coraggio di fare appello dicendo che per lui 17 anni erano troppi per quello che aveva fatto al che i giudici hanno rivisto il caso e gli hanno detto sai che c'è, hai proprio ragione 17 anni non è una sentenza giusta per te to, te ne diamo 20 va bene? quindi gli hanno aumentato la pena a 20 anni di prigione che sono comunque pochi secondo me però ok hanno anche costretto la sua famiglia a pagare un risarcimento alla famiglia di Junko e non potendoselo permettere hanno dovuto vendere la loro casa e hanno appunto dato il ricavato alla famiglia Furuta ma comunque ad oggi Hiroshi è uscito di prigione e ha cambiato il suo nome in Hiroshi Yokoyama è stato arrestato anche un'altra volta nel 2003 per frode ma è stato rilasciato dopo poco tempo per mancanza di prove Shinji Minato invece era stato condannato dai 4 ai 6 anni di prigione ma poi è andata un po' come con Hiroshi ha chiesto di appellarsi dicendo che quegli anni per lui erano troppi e la sua condanna è stata aumentata dai 5 ai 9 anni di prigione di conseguenza anche lui ad oggi è libero e ha cambiato il suo nome anche lui in Minato Nobu Haru e i suoi genitori ricordiamoci che è successo tutto sotto il tetto dei genitori di questa persona i suoi genitori non sono stati condannati a niente non hanno pagato nulla per loro nulla neanche non so pagare un risarcimento alla famiglia di Junko non ho capito perché la famiglia di Hiroshi ha dovuto pagare invece loro no la famiglia di Junko era ovviamente disgustata dal risultato di questo processo e loro stessi hanno fatto causa ai genitori di Minato una causa civile che hanno vinto ma non ho capito quali siano state le conseguenze di questa vincita Minato dopo essere uscito di prigione è tornato a vivere a casa dei suoi genitori e non ha mai lavorato neanche un giorno della sua vita e nel 2018 è stato arrestato di nuovo perché pensate ha tentato di uccidere un uomo non so perché lo sto dicendo così non sono per niente sorpresa in realtà comunque ha cercato di uccidere un uomo di 32 anni picchiandolo prima con una spranga di ferro, un bastone e poi tagliandogli la gola con un coltello quindi in realtà ad oggi credo che lui sia l'unico ad essere effettivamente in prigione ma per un crimine diverso Joe Ogura è stato condannato a otto anni in un riformatorio ma dopo essere stato rilasciato nel 1999 a quanto pare è andato in giro a vantarsi del suo ruolo nell'omicidio di Giunco Furuta a vantarsi di tutto quello che aveva fatto e nonostante tutto è riuscito anche a trovare un lavoro e una moglie ma nel 2004 a quanto pare Joe aveva il sospetto che sua moglie lo tradisse quindi ha seguito l'uomo con cui pensava che la moglie lo tradisse lo ha seguito, lo ha preso, lo ha ficcato dentro il bagagliaio della sua macchina e lo ha portato, insomma ha guidato fino ad un bar che era il bar di proprietà di sua madre e in questo bar l'ha legato e l'ha picchiato per quattro ore di seguito di conseguenza a questo incidente Joe viene arrestato per altri sette anni e a quanto pare anche sua madre non era una grande persona perché a quanto pare ha vandalizzato la tomba di Giunco Furuta dicendo che quella ragazza aveva rovinato la vita di suo figlio e pare che anche la famiglia di questo mostro dovesse risarcire la famiglia di Giunco ma piuttosto che fare questo la famiglia di Joe ha deciso di sperperare tutti i loro soldi di famiglia tutto quello che spettava alla famiglia di Giunco per comprare beni di lusso cose assolutamente inutili proprio in segno di sfregio cioè che piuttosto di dare quei soldi alla famiglia di Giunco li hanno appunto spesi per cose di cui non avevano neanche bisogno i giudici del processo di Giunco Furuta hanno dichiarato che quello era un crimine di una violenza senza precedenti pare che addirittura una persona che stava assistendo al processo sia svenuta da quanto fossero orribili le violenze di cui stavano parlando, che stavano descrivendo la madre di Giunco ha avuto un crollo nervoso che ha richiesto assistenza psichiatrica penso per il resto della sua vita il funerale di Giunco si è tenuto il 2 aprile del 1989 e una delle sue amiche, delle sue compagne di scuola ha scritto per lei questa dedica Jun Chan, bentornata non avrei mai immaginato di rincontrarti così devi aver sofferto così tanto quanta sofferenza il happy che abbiamo fatto per te ti sta davvero bene non ti dimenticheremo mai il preside della scuola ha rilasciato il certificato del tuo diploma così ci siamo diplomati insieme tutti insieme Jun Chan, non c'è più dolore non c'è più sofferenza ora puoi riposare in pace e queste amici miei sono tutte le informazioni che ho sul caso Giunco Furuta un caso come avete potuto capire molto molto intenso, molto pesante è un caso talmente orribile che davvero sembra quasi finto sembra, non lo so, una leggenda metropolitana invece non lo è è tutto vero ed è per me incredibile pensare che un essere umano possa fare ad un altro essere umano queste cose comunque grazie di aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci vediamo lunedì con un altro video ciao 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 Grazie a tutti.